Buongiorno, sono Alberto, lavoro alla Fratelli Roda S.A. di Taverne e sono qui per illustrarvi una nuova linea di prodotti Rosicur che utilizziamo per quanto riguarda una comunicazione a breve distanza per mantenere sicuri quelle che sono le comunicazioni tra varie aziende, prodotti, imballaggi, difatti trattiamo quelle che possono essere tessere o biglietti da visita o cartelli di informazione. In questo momento vorrei far presentarvi quello che è una tessera dinamica. Cosa vuol dire dinamica? Una tessera che permette di avere informazioni da parte di quello che è il cliente e comunicarlo a quelli che sono i suoi diretti interessati. Questa linea di comunicazione è assolutamente sicura. In questo periodo dove internet diventa una cosa accessibile a tutti, questo è un canale che permette di dare informazioni e monitorare quello che potrebbe essere la risposta del nostro cliente o operatore per poter avere una garanzia e una sicurezza di essere praticamente sempre in contatto con lui. La funzionalità della tessera avviene attraverso il sistema NFC ormai integrato in quasi tutti i più moderni sistemi di telefono attualmente in uso. La tessera funziona in questa maniera. Avvicinandola al nostro telefono il lettore NFC fa scattare il contatto e la comunicazione con quelle che sono le informazioni. Ogni volta che noi avviciniamo la tessera e ripetiamo questo gesto, una nuova informazione verrà acquisita dal vostro telefono. Le informazioni possono essere caricate o scaricate a secondo dell'interesse che possono suscitare e nello stesso tempo l'operatore che carica l'informazione può a sua volta decidere o definire se cambiare l'informazione, aggiornarla oppure cancellarla perché non ha più senso in questo tipo di comunicazione che sta avendo con voi.